Soia, mais, vomito e sangue. Nei campi di mais e di soia arrivare vivi alla fine della giornata è già una vittoria. Lo schizzo caldo insieme ad un piccolo oggetto duro e pungente lo colpirono con violenza nel collo mentre arrancava curvo sotto il fardello della soia. Il gesto istintivo della mano raccolse quel sangue e quel dente, vecchio e malato come chi lo aveva perduto. Al suo fianco lo sconosciuto continuava ad essere calpestato dal miliziano dei campi, irritato perché si era fermato per riprendere fiato. I miliziani avevano una struttura molto particolare, testa microscopica, il cervello non era poi così importante per le loro mansioni, ma torace, spalle, braccia grosse e muscolose, autentiche tenaglie in grado di stritolare le ossa di chiunque. L'uniforme era di un unico colore blu notte, quasi nero, e lasciava scoperte solo le braccia potenti come ganasce assassine. Indossavano un piccolo elmetto dotato di videocamera che riprendeva in tempo reale ogni dettaglio. Auricolare e microfono li tenevano sempre connessi con i colleghi e con il comando. La corazza di protezione, sagomata sulla muscolatura del torace, era impenetrabile ad ogni tipo di arma e dotata di contenitori per granate e proiettili, razioni di emergenza e pronto soccorso. Al fianco pendeva una nera lucida Taser, la pistola che sparava ad ardi elettronici capaci di tramortire con scariche elettriche, ma anche di uccidere chi veniva colpito. Pesanti stivaletti da combattimento e coltello da commando completavano la bardatura. Questa era l'uniforme dei sorveglianti esterni, dove gli inermi impuri non avevano reali possibilità di aggredire la vigilanza. Ancora più massicce e pesanti erano invece le divise delle pattuglie addette all'ordine pubblico, autentici squadroni della morte che mettevano terrore solo a guardarli. «Cammina, vecchio, se non vuoi che ti fulmini per sempre con la mia Taser!» Adam lo scorse, rannicchiato al suolo come un bambino, inerme nella sua tuta sgargiante di colore arancione, voluta così per rendere gli impuri sempre facilmente identificabili nei campi. Tuttavia non domo, la testa sollevata in un gesto di sfida. Era molto vecchio, doveva avere 35 anni, forse di più. Si intuiva che non avrebbe superato il prossimo inverno. Quello era il destino di tutti ad Antiade, produrre per la colonia fino alla morte, senza pietà, senza misericordia. «Dammi il tuo fardello, lo porto io per un poco mentre tu riprendi fiato!» Il gesto placò la rabbia del guardiano, che li lasciò proseguire. Il vecchio non aveva ancora recuperato le forze, ma non poté trattenersi. «Tu, tu sei diverso! Nessuno lo avrebbe fatto! Chiunque mi avrebbe abbandonato al mio destino!» Si fermò ancora per vomitare sangue insieme ad un altro dente spezzato. «L'avrebbe fatto chiunque!» rispose flemmatico ad Anna, guardando fisso avanti, ma fermandosi brevemente per aspettarlo. «No, nessuno lo avrebbe fatto! Tu sei diverso, un errore di programmazione! Ti aspetto, una di queste sere, alle Hormigas Rojas del livello N1054, dove abito!» Quasi gli strappò di mano il fardello, sembrava avesse recuperato le forze. «Ce la faccio benissimo da solo! A presto!» Adan si rese conto di non aver avuto neppure il tempo di guardarlo in faccia. «Aspetta, come ti riconosco!» «Non preoccuparti, ti riconoscerò io!» Fu subito sera. Prima di scendere nelle viscere calde e appiccicose di antiade per qualche ora di riposo, Adan si fermò all'ombra delle enormi macchine impiegate per la coltivazione e osservò un istante il cielo infuocato completamente solcato da una miriade di scie fosforescenti, quasi profonde ferite che venivano rilasciate ogni giorno nell'atmosfera dalle centinaia di aeromobili destinati alla geo-ingegneria. Sotto, a perdita d'occhio, milioni e milioni di ettari quadrati di coltivazione ricoprivano ogni angolo del pianeta e avevano preso il posto di foreste, di praterie e di città sull'intera superficie terrestre. Adan, insieme a miliardi di altri umani, lavorava per produrre maisì, la farina di mais e soia, geneticamente modificati. «Dacci oggi il nostro maisì quotidiano!» era la preghiera che veniva insegnata ai bambini appena erano capaci di intendere. Era considerato la benedizione dell'umanità, perché alimento principe della popolazione. Ricchissimo di zuccheri e quindi di energia, conteneva scarse proteine senza valore e praticamente nessun altro nutriente. Era invece denso di antinutrienti, sostanze che impedivano digestione e assorbimento di proteine, di vitamine e minerali. Conteneva inoltre tossine, allergeni e morfine. Riempiva senza saziare, sfondava e infiammava l'intestino, distruggendone batteri indispensabili che vivono in simbiosi con gli esseri umani da milioni di anni, producendo gravi disturbi digestivi, diarrea e stitichezza. Dal duodeno ormai compromesso, gli allergeni portati dal sangue invadevano ogni organo, innescando così decine di malattie autoimmuni, mentre gli zuccheri in eccesso provocavano obesità e si incollavano ai tessuti, generando altre malattie. Inoltre, la povertà di nutrienti deprimeva il sistema immunitario, rendendo gli umani suscettibili di ogni genere di infezione. Altre sostanze, le esorfine, o piacei naturali, se da un lato allontanavano la sofferenza dando euforia, benessere e gratificazione, dall'altro creavano dipendenza e potevano innescare serie malattie neurologiche. Con le farine di maesi si realizzavano centinaia di preparazioni molto appetitose e sempre diverse, persino facendole fermentare bevande alcoliche. In pratica questo alimento, il solo disponibile per l'umanità, consentiva una miserabile sopravvivenza al costo di innumerevoli sofferenze e malattie. Coltivare mais e soia aveva poi un costo ambientale altissimo, perché queste colture desertificavano il terreno ed esaurivano enormi quantità di acqua, ma la bio e la geoingegneria avevano modificato le piante stesse e il clima, rendendo la coltivazione più proficua e razionale. Era l'unica alternativa rimasta per una popolazione di predatori naturali dal numero esorbitante che, come piranha, in uno stagno avevano esaurito ogni altra risorsa ambientale. Il maisi aveva anche una ulteriore e non trascurabile qualità, rendendo la popolazione così malata e inetta, neutralizzava ogni possibile ribellione al potere della suprema singolarità. Questo dettaglio di non poco conto ad Adan non era sfuggito. Barrio e speranza. Adan si reca all'appuntamento col vecchio che ha salvato, un incontro che cambierà la sua vita. Quella sera, nel pub Hormikas Rojas, Adan si guardava intorno cercando di riconoscere il suo compagno di sventura, l'uomo che aveva sottratto alla furia omicida del miliziano, lassù nei campi di soia. Nel frattempo una ragazza colpì la sua attenzione. Dodici anni, non di più, le guardò le cosce, rese pesanti dai liquidi e dalla cellulite. La carne nuda e impietosa finiva in un paio di espadriglias cenciose. Nonostante la figura pesante e sgraziata, la sua sensualità era esuberante e molti uomini nel locale la fissavano con bramosia. Si lisciava incessantemente una ciocca di capelli, come fanno spesso le donne quando sono nervose. Adesso che si era tolta la tuta arancione dal lavoro, era vestita, come tutti d'altronde, di stracci, stracci colorati che cambiava ad ogni stagione col cambiare delle mode, ma sempre stracci. Aveva una gonna quasi invisibile, portata bassa sui fianchi, a scoprire natiche esplosive e un golfino stazionato dal quale uscivano una spalla tatuata e i laccetti del reggiseno. Pesanti collane, anelli e bracciali completavano la sua mise. Aspettava qualcuno abbastanza ubriaco e con qualche moneta da spendere per vendersi là fuori, dietro una colonna, in piedi senza neppure spogliarsi, tirando su quel gonnellino inesistente per un rapporto frettoloso che spesso, lo sapeva per esperienza, il cliente non era neppure in grado di concludere. Umanità, umanità cenciosa e penosa, pensava dentro di sé Adan. Umanità miserabile che si trascina in quell'antro posto a 70 chilometri sotto la crosta terrestre, tra scale umide e maleodoranti di piscio e di sperma, in un quartiere disperato che qualcuno, ironicamente, aveva chiamato Bario e Speranza. Hormicas Rocas era un minuscolo pittoresco ritrovo rionale, tenuto in piedi più dalla carità che da prosperi affari. Ogni tavolo, ogni sedia, persino il bancone, erano mobili riciclati, pittoresco vintage, arredi recuperati dai rifiuti e pitturati con colori sgargianti che non riuscivano a dar loro nessuna omogeneità. Vi si bebeva la leggendaria birra di maisì, la cervezza dos campos, mais e soia fermentati, accompagnandola per non distruggere del tutto l'intestino, con tapas e tortillas, fatti anch'esse con il prezioso nutrimento coltivato in superficie. Cartelli sgualciti ostentavano pretenziosi menu con piccoli prezzi, mentre un gracchiante video tridimensionale diffondeva ologrammi con news, pubblicità, canzoni e comizi politici senza soluzione di continuità. La luce gialla e fioca, però, contribuiva a dare una sensazione di calore, sorta di ventre materno nel quale una pittoresca umanità leniva il proprio dolore. Un ventre materno che, come vedremo più avanti, nessuno di loro aveva mai avuto. «Hola, NT753H217Q, altrimenti detto...» aveva riconosciuto quella voce, stavolta ferma e decisa. «Adam, molti mi chiamano così. E tu, amico, come ti fai a chiamare?» «Noah, Noah è il mio nick da sempre. Ti risparmio il numero di catalogo, tanto lo trasmette il mio biochip». Finalmente seduti con in mezzo due cerveza a Stoscampus, Adam poteva osservare il compagno con attenzione. Era molto anziano, basso di statura, ma ancora asciutto e non troppo sgualcito. Solo la faccia era devastata da solchi profondi che nascondevano lineamenti grifagni, e il naso adunco e lo sguardo luciferino gli conferivano in certi momenti un'aria volutamente ribalda. I radicapelli, tutti oramai bianchi, erano raccolti dietro la testa in un codino ingiallito. Gli occhi, scuri e tristi, ogni tanto si accendevano ancora, mandando bagliori di intelligenza e umanità. Accadeva di rado, e questo era uno di quei magici momenti. Il furore e la consapevolezza di Adam avevano conquistato il vecchio, accendendo di nuovo in lui un barlume di vita e di speranza. Adam era quello che Noah avrebbe voluto essere, forte, energico, deciso. Li univa una inesauribile curiosità e un errore di programmazione genetica. Lucidi e consapevoli, avevano presto capito la grossolana finzione, il teatrino virtuale messo in atto per sottomettere e sfruttare il genere umano. Abitiamo lo stesso livello e non ci eravamo mai incontrati. È normale quando condividi un spazio con tre milioni di individui. Siamo tutti perfettamente stranei, uniti solo da un codice a barre e da un biochip impiantato nel polso. Siamo numeri, non siamo persone. Adam fu compiaciuto di quella risposta. La sua impressione era confermata. Un cervello che pensa, ma lo tenne per sé. Sai, i miliziani mi credono vecchio e prima o poi mi finiranno con una scarica mortale di taser quando si renderanno conto che non riesco più a fare il mio lavoro. L'ho messo in conto, qua sotto è così. Per questo sono felice di averti incontrato, ho molte esperienze da trasferirti e so che ne farai buon uso. Adam sospettò che fosse un provocatore della milizia patriottica che cercava di incastrarlo e l'incidente fosse stato costruito apposta come pretesto per conoscerlo. Non c'era pietà per i sovversivi, sparivano semplicemente senza lasciare traccia. Ma quel viso così segnato e quegli occhi profondi parlavano di un umano intelligente, non di un idiota geneticamente modificato per servire la security della colonia. Ho capito che sei diverso, Adam, come lo sono io e molti altri. Non siamo pochi, ma isolati e difficilmente entriamo in contatto. Cosa stai cercando di dirmi, Noah? Il vecchio finalmente si rilassò. Dalla camicia arrotolata sui polsi uscivano avambracci nodosi, un groviglio di vene. Al collo, appeso ad una sottile cordicella, ondeggiava tra le rughe da tartaruga un minuscolo amuleto di argento recante un simbolo strano, esoterico. È il simbolo del fuoco, ultimo ricordo di una femmina conosciuta tanti anni fa. Me lo regalò insieme ad una fastidiosa infezione venerea, roba della preistoria oramai. Ascoltami, NT75, eccetera, in arti, Adam, ti sei mai chiesto perché sei così diverso dai tuoi simili? Non lo sono del tutto, però mi accorgo che gli altri vivono in una maniera più superficiale, mangiano, scopano, lavorano, respirano, vivendo nel terrore e nella sofferenza, allietati da stupidi palliativi senza mai chiedersi perché, docili e obbedienti finché nella loro testa scatta qualche episodio di pazzia. Corretto. Vengono programmati prima di rinascere e condizionati per l'intera esistenza a vivere inconsapevolmente con l'unico scopo di essere usati dalla suprema singolarità. Adam sobbalzò. Nessuno osava mai usare in pubblico quel nome, l'essere supremo, eterno e onnisciente che aveva dato loro la vita. Noah sembrò non farci troppo caso. Ti sei mai chiesto chi ti ha messo al mondo, Adam? Ho notato che i topi dei quali mi nutro formano grandi famiglie e sono partoriti dalle femmine, ma non c'è niente di simile nella nostra società. Dentro di me sento che manca qualcosa, ma non sono mai riuscito a spiegarlo. Era arrivato il momento in cui Noah si sentiva importante. La servezza stava facendo il suo effetto, ma non tanto da fargli perdere lucidità. Ero considerato brillante da giovane e questo mi aprì molte strade. Poi, quando si accorsero della mia diversità, mi cacciarono di casta in casta sempre più in basso. Per un anno ho lavorato con i biologi della fabbrica dell'uomo, dove i gameti prelevati dalle femmine sono fecondati artificialmente e fatti sviluppare in uteri sintetici, per passare poi alle incubatrici durante lo svezzamento. File ininterrotte di milioni e milioni di uteri cibernetici ad altissima tecnologia, nutrono, sorvegliano, sviluppano piccoli feti umani. La fabbrica ne produce senza interruzione, data la brevità della nostra esistenza. Le malattie delle quali soffriamo cronicamente e abitualmente, le continue morti sul lavoro delle quali siamo vittime. Per ogni milione di operai che muoiono ce ne sono altrettanti pronti a sostituirli. La macchina infernale della colonia va avanti così. La nostra natura vorrebbe che nascessimo come i topi, ma questo processo è stato industrializzato e reso enormemente più rapido e funzionale. Si chiama progresso, mio caro, progresso e civiltà. Quello lo sanno tutti. Appena passi nell'incubatrice ti impiantano il biochip e vieni allevato nei campi gioiosi dell'infanzia da personale specializzato. Nei miei ricordi non c'è niente di gioioso in realtà, un vero e proprio lager con decine di energumene in uniforme che cercavano di indottrinarmi. Corretto, ma pochi sanno che prima della gravidanza artificiale modificalo il nostro DNA, già nell'embrione, per fare di noi servi obbedienti e specializzati. Alcuni diverranno operai, altri campesinos, altri ancora miliziani, a seconda delle necessità della colonia. Per tutta la vita poi saranno soggetti a questo processo di condizionamento e di controllo, ma beve gli ultimi sorsi con avidità, mentre Adan, quasi ipnotizzato, non gli staccava gli occhi di dosso. Ah, che vuoi? Alla mia età l'unica soddisfazione rimasta è la servezza. Tu, io, qualcun altro, siamo difetti di fabbricazione, errori di progettazione sfuggiti al controllo qualità della fabbrica. Può accadere. Siamo diversi e ritenuti pericolosi perché potenzialmente sovversivi. Il video tridimensionale del pub li distrasse per un attimo. Infuriava un sanguinoso dibattito sul rigore non concesso alla squadra locale di Pelotas. Il presentatore Paonazzo dava in escandescenze e i tecnici presenti in studio stavano per venire alle mani. Vergogna, buffoni, cornuti, traditori. Per giorni i mass media non avrebbero parlato di altro. Gli avventori di Hormijas Rokas, divisi tra tifosi delle due squadre, iniziarono a pestarsi di santa ragione. Noah e Adan li guardarono un attimo. I commenti erano superflui. Per stemperare il clima partì la pubblicità. Una bella quanto irreale annunciatrice scandiva entusiasta. Vinci la fortuna, partecipa a Cultural Quiz. Rispondi subito a questa domanda. Le dita di una mano sono quattro oppure cinque. Scrivi quattro oppure cinque e invia al numero in sovraimpressione. Se vinci la tua vita potrebbe cambiare per sempre. Gli spot proseguirono implacabili a lungo. Regalati un sogno, vivi fino in fondo questa esperienza. Afferra l'attimo. Vola in alto con la fortuna. Facce inespressive e sorrisi beoti facevano da sottofondo. Guitti di avanspettacolo si esibivano in penosi sberleffi. Non pensare, non preoccuparti, pensiamo a tutto noi. Irrupe infine il notiziario, preceduto da note incalzanti aggressive. Settecento milioni di umani sono morti nel crollo della colonia sud-occidentale. Guapa Trasero, compagna del famoso giocatore di pelota Stico, è stata paparazzata in atteggiamento intimo con un collega del calciatore. Calcoli inesatti di geoingegneria climatica hanno prodotto immense aree di siccità ad est dei Balcani, che hanno portato la morte per inedia di un miliardo di umani. Le confessioni shock della pornomodella Tetas. A letto, l'alato l'Obama si è dimostrato poco efficiente. La speaker, una immagine virtuale di bellezza ammaliante, passava da una notizia all'altra con estremo distacco. E adesso la decapitazione di alcuni nemici della colonia sorpresi a preparare attentati. Si sconsiglia la visione ai bambini e ai cardiopatici. L'overdose di stimoli, notizie e informazioni avevano placato anche gli animi più accesi. Adam e Noah pagarono in fretta allontanandosi da quel delirio.